Siamo con Claudio Spoto, segretario della CNA. Un incontro oggi in prefettura tra AICA, l'amministrazione prefettizia, il prefetto e gli assessori di enti locali. Come vede la situazione del futuro, dei lavoratori, dell'impresa ma anche del pregresso? C'è un problema che lei ha evidenziato in maniera particolare? Siamo qui in attesa di conoscere l'esito della riunione. C'è un incontro in prefettura per capire come si muoverà questa macchina, questo nuovo soggetto laica che dovrebbe prendere le redini in mano del servizio idrico integrato a partire dal 2 agosto e quindi tra qualche giorno. Ovviamente il presente e il futuro sono importanti sia per le imprese, per i dipendenti e soprattutto per i cittadini in modo che possano avere regolarmente l'acqua a casa. Però c'è anche il pregresso, quello che è maturato dal 16 marzo ad oggi per capire un po' come bisogna far fronte a questi debiti che il sistema ha accumulato nei confronti delle imprese. Quindi noi siamo qui per conoscere l'esito perché vogliamo un po' capire come bisogna procedere e che risposte arriveranno da questo importante tavolo di oggi rispetto a quello che è il pregresso, il presente e il futuro delle imprese. La Regione ha fatto la sua parte con questi 10 milioni, quantomeno insomma c'è un iter avviato. Sì, la Regione ha stanziato 10 milioni di euro per mettere a disposizione di questa emergenza perché di questo si tratta, un'emergenza nel territorio agrigentino che riguarda il sistema idrico integrato. Questi 10 milioni ovviamente andranno a Laica per partire, per assicurare il servizio. Però noi siamo qui per capire anche se questi 10 milioni qualche fetta potrà essere utilizzata e dovrà essere utilizzata. Noi ce l'auguriamo per poter pagare i debiti che ha assunto la Commissione Prevettizia, la Girgentiac in questo periodo. perché ovviamente le imprese sono sul rischio di poter fallire, non possono permettersi questo lusso. Come abbiamo sempre detto in questi giorni, il fallimento di Girgentiac non può portare al fallimento delle imprese.